ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri orologi eccoci qua con un'altra simpatica puntata dedicata alle vostre collezioni di orologi e alla vostra esposizione sempre magnificente perché siete sempre in grado di trascinarci dentro al video e a non lasciarci abbandonati come si suol dire mi piace questa rubrica perché dà un po uno spaccato anche della nostra italia della società io cerco di pubblicare allo stesso modo come ho detto anche sulla mia chat telegram anzi saluto gli amici della chat telegram tutti i video che mi vengono inviati il cicciuzzo di turno la casalinga di voghera il cumenda della brianza tutti allo stesso modo qua piazzate lì che poi ripeto sono uno spaccato della società moderna quindi ognuno al suo modo rappresenta un piccolo tassello è nell'ambito della collezione di orologi collezione di orologi questi simpatici segnatempo come partecipare lo sapete avete visto qua in sovraimpressione video possibilmente orizzontali ora avviso viene in mente l'amico batterista c'è un amico batterista che ha inviato un video che io l'ho scartato ora dico questo perché me lo ricordo perché in sottofondo c'era la musica ok la musica 1 dà fastidio 2 può creare problemi di copyright quindi non mettete la musica e tuo amico batterista se ti riconosci in questa mia descrizione rifai il video ma senza musica detto questo vi mostro l'orologio del giorno che oggi è un simpatico rolex day just 41 39 mm di diametro cassa acciaio e oro oro di quello vero bracciale giubilì quadrante nero orologio che al polso spicca che è una meraviglia adesso è un po un periodo che lo indosso se lo merita no anche lui se lo merita bando i discorsi inutili adesso la barra spaziatrice qua è pronta ad essere malmenata e io la malmeno subito col mio indice destro fuoco ciao davide sono ciaone ho 23 anni e voglio mostrarti la mia piccola collezione di vai voglio dire ti seguo da circa un netto e mezzo ti ho scoperto in questo periodo più o meno su youtube l'anno scorso poi da lì in poi io mi sono più perso un tuo video mi sono andato a riprendere molti dei tuoi vecchi grande dunque partiamo primo orologio è questo maserati con colorante blu so che non ha un valore effettivo per quanto riguarda l'orologeria però ha un legame effettivo molto importante con questo orologio perché l'ho comprato in un centro commerciale insieme a mio papà e l'ho indossato diciamo per tutto il mio periodo delle scuole superiori 16 anni e in realtà quando lo mettevo mi dava moltissima soddisfazione l'orologio che comunque non uscirà mai dalla mia collezione perché comunque il fatto che me l'abbia acquistato mio papà è molto importante e quindi è un orologio che rimane qui e ogni tanto ogni tanto metto quando devo fare qualche lavoretto sono quei traumi infantili secondo orologio era ma non caso in oro è stato un regalo che mi hanno fatto dei miei amici perché parlavo sempre sempre di orologi sempre nello stesso periodo liceale mi hanno fatto questo regalo questo caso comunque fa il suo sporco dovere l'ho spesso utilizzato soprattutto come forma di cronometro durante gli allenamenti e in realtà ha fatto quello che gli era richiesto fare sempre in modo ottimo e anche questo ha un valore effettivo e seppur essendo niente di speciale voglio bene anche a questo orologio e gli vuole bene e gli vuole bene e gli vuole bene ora giri di parole per non dire fa il suo fa lo sporco dovere per cui è stato costruito fa il suo no capito anziché dire lo usi come cronometro durante gli allenamenti questo ha senso no perché ci sono i tempi da rispettare le pause bla 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 quindi un cronometro serve a volte uno va in palestra guarda l'orologio che l'ha suo attaccato per tenere il tempo invece c'era il polso e lo calcoli così però io mi sono sempre immaginato pensate tutti i movimenti che si fanno in palestra no sprecati quando si avrebbe se si avesse al polso un orologio automatico sarebbe il suo tutti i movimenti caricano quello rotore lo fanno girare come una trottola e si carica a manetta no quindi anche il piacere di avere un orologio meccanico durante gli allenamenti può avere quel senso lì infatti uno porta se ci porti un orologio a carica manuale è tutto sprecato tutta energia sprecata che l'orologio a carica manuale non sente no poi figuriamoci qui la batteria che se è in fin guarda la batteria se ne frega sa se a farti l'allenamento anzi ti potrebbe anche lasciare a piedi nel momento in cui hai bisogno di calcolare il tempo quindi occhio all'orologio a batteria nel tempo iniziando anche comunque a lavorare e a guardare sempre di più orologi ho iniziato a diciamo a cambiare un po prospettiva è il primo orologetto che ho comprato tra virgolette un pochino più simpatico più frizzante questo mega press watch sa che non ti piace però a me in realtà piace tantissimo soprattutto il colore questo bordeaux è il mission to pluto lo trovo veramente molto bello mi dà molto molta soddisfazione metterlo lo uso soprattutto a lavoro e in realtà lo metto con molta disinvoltura nel senso che non ho paura che possa prendere botte colpi o graffi certo e esteticamente veramente mi piace mi piace tantissimo anche il cinturino in realtà questo cinturino con lo strap mi piace mi piace particolarmente certo il primo orologio diciamo un po' più serio che ho comprato è stato questo pudor con il bracciale in top in cuoio mi piace mi piace molto soprattutto questi colori del quadrante questo questo acciaio e oro e l'ho messo all'inizio con un po' di difficoltà perché avevo paura si potesse come posso dire rovinare il cinturino in cuoio ma in realtà non ha avuto nessun segno di cedimento comunque l'ho comprato l'anno scorso e non ha nessun tipo nessun tipo di problema è molto morbido al polso e questa cosa mi piace tanto e lo metto sia magari quando sono vestito un po più sportivo sia magari quando sono un pochettino più elegante senza è il 41 questo è velo spesso si sono abbastanza maniacale nel senso che ho lasciato le sue pellicole almeno qui sul lato però le pellico fa niente e mi piacciono comunque i diver nel senso che il diver è l'orologio che mi affascina di più bene come come tipologia di orologio vai l'ultimo orologio che ti voglio mostrare è sicuramente un pezzo forte dell'orologeria è questo su my right date che mi è arrivato proprio da qualche giorno ero in lista da un anno e finalmente sono riuscito ad avere la possibilità di acquistarlo è proprio nuovissimo non l'ho ancora messo giusto una volta uscito dalla gioielleria e in realtà sono davvero contento devo dirti devo dirti la sincera verità perché vederlo comunque in gioielleria è un conto ma poi poterlo portare a casa metterlo al polso e viverselo comunque iniziare a viverselo è davvero è davvero fantastico che dire questo bracciale è veramente è veramente fantastico questo acciaio è davvero bellissimo i colori sono sono super mi piace davvero tanto non ho tantissimi aggettivi per questo orologio perché ancora non abbiamo vissuto momenti insieme particolari però è proprio l'orologio che che desideravo poi una cosa che mi mi è piaciuta molto è il fatto che comunque insieme all'orologio mi hanno dato anche questa questa pochette tanta roba di rolex con questo parlore marroncino che questa pochette da viaggio che è veramente molto bella ovviamente oltre al suo tutto il corredo e nulla questo è questo diciamo il mio il mio pezzo forte e ti mando un saluto un abbraccio a tutti gli amici del canale love 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 due belli orologi un tudor e un rolex submariner perfetti questi due quindi insomma anche per essere giovane c'è anche dei belli orologi no disponibilità economica cioè a dimostrazione che poi insomma siamo arrivati al punto che basta aspettare un annetto per avere un submariner siamo quasi nei tempi quelli proprio fisiologici no quando ordini una macchina o anche un altro orologio che non è disponibile qualche qualche tempo deve passare no un anno magari siamo ancora tantino però visto basta aspettare un annetto e arriva l'orologio il submariner che non si trovava non si trova lì e c'è basta aspettare non è il mio orologio non lo comprerei nemmeno sotto forma di attesa magari uno yacht master si poi simpatica anche la pochette che ti hanno regalato con lì marrone è quella dimostrazione quando voi vedete la pochette quelli verdi con i verdi in feltro con il logo giallo quelli sono false perché rolex non le ha mai fatte le pochette verdi così queste sono quelle vere quelle che danno bravo 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 sei promosso sei giovane due orologi belli due mezze cioffecche no il casetto non è una cioffecca maserati una cioffecca comunque bravo sei promosso prossimo video ciao davide ciao nico da appoggi buon si dico ora ti presento la mia piccolissima collezione piccolissima vai oggi automatici e questo è il classico 6 o 5 con 18 anni è stato il mio primo orologio bellino bella assai niente di che però niente di che ma bella assai boom colpone la poi c'è questo altro 6 o 5 un altro bravo anche questo bellino lo indosso molto spesso molto preciso bello mi dà uno scarto di più 2 meno 2 giornaliero pensate quindi sono molto contento di questo di questo orologino orologino 6 o 5 con il cinturino bello successivamente ho deciso di aumentare un po il livello e mi sono preso questo lor engine spirit cronografo cavoli dopo dopo appena ho visto questo di questo me ne sono innamorato e insomma non si vede tanti praticamente tutti i giorni quasi bello anche massiccio e successivamente ieri ho preso omega c master vintage top anche questo appena ho visto in orologeria non ho potuto fare altro che portarmelo a casa bravo senza permesso è solamente che ho dei dubbi su questo orologio perché è automatico però cercando la referenza mi esce mi escono soltanto questi modelli qui ma al quarzo dopo comunque se sono automatici presentano una scritta cronometer non so hai qualche consiglio da darmi qualcosa non saprei e di chi anno è la referenza qual è mi dicono un po cosa devo fare ecco ok ti ringrazio davide grazie a te tanti auguri per il canale tanti auguri di natale natale a natale ciao e buon natale buon natale anche a te siamo sempre lì con i soliti discorsi allora se in effetti non lo sono sinceramente non so risponderti alla domanda il tuo è chiaramente un automatico un 36 mm se non sbaglio quello lì però non c'è la scritta cronometer solitamente c'è c'è la scritta cronometer oppure in quelli in quelli successivi poi ci sarà scritta coaxia non lo so potrebbe essere una crocchion questo non te lo so dire però mi dispiace sono per una volta sono non sono utile al tuo scopo comunque complimenti per gli orologi per anche per quello meghino lì spero che tu riesca a risalire alle vere poi darsi che li facevano così non lo so cerca di fare una ricerca più approfondita e so che dirti aprilo guarda fallo aprire dove l'hai preso in orologeria detto che l'hai preso lo fai aprire fai aprire quel punto lì chiedi chiedi lumi guardi che calibro c'è dentro guardi tutti i numerini che ci sono dentro se è tutto a posto se ti sembra che sia stato manomesso non si va a pigliare vintage poi dopo dopo si piange pace bene prossimo video ciao davide ciao grazie a te mi sono appassionato questa bella passione bella passione allora iniziamo prima orologi che all'epoca era la mia fidanzata oggi la mia moglie quasi cucina si vede capendo niente ancora di orologeria mi regalo questo qua cos'è una cioffega ridi ridi alert però all'epoca era a me piaceva e me l'ha regalata bello bello fuori un quarto un quarto un via poi poi sempre il regalo di mia moglie recente appena mi stava appassionando non sapevo automatico quartz e roba varia mi ha regalato questo qua mamma mia mamma mia che tra l'altro c'era anche automatico però era oro e acciaio invece questo qua è oro rosa e acciaio un lorenzo finto placato sempre quarzù un quarzù un placato cibili bracciale come dici buttiamo via dai mamma mia lo metto a volte lo metto un Daytona anabolizzato questo qua ho preso io il primo automatico in estate a me piace tanto l'estate non so se si piace però mi piace si è un bel 6 con la sua cassa slim ci piace tanto bello al mare lo metto bravo passiamo all'altro e cosa sarà sempre automatico citizen su yosa su yosa che questa colorazione qui è stato sold out a lungo io la trovai l'ho pagata un po due trecento euro in più come due trecento euro in più non ci stima ma come due trecento euro più ma te se fuori il suo prezzo è due sessanta due trecento euro più l'hai pagato il doppio più del doppio ma ora li trovi che te li tirano dietro non bisogna nemmeno farsi fregare quando esce un nuovo modello dall'hype no perché lo trovi che te lo vendono più magari spesso è su amazon addirittura che si fanno gli affari no su amazon vengono scontati ma quando ci sono quelli che ne approfittano della situazione te lo mettono di più basta aspettare qualche mese qualche tempo che anche un po no la scimmia ti cala e ti toglie lo sfizio con quello che costa col suo prezzo reale anzi scontato te l'hai pagato il doppio ora voglio vedere quando ti stufi dici no ma io ho pagato il doppio lo devo mettere a 500 euro e che te ne dà te lo vai a vendere a due duecento euro 180 ce ne pensi una marea perché perderci è normale ma una marea no però è bello mi piace è bello poi poi presi questo qui eccolo qua un altro secco 5 gmt secco 5 quante l'hai pagato come la chiamano batman batman sempre con il cinturino jubilee jubilee batman una bella versione simpatica basta morto poi poi chiudiamo il video con l'ultimo orologio al momento che questo qui cos'è cos'è la versione limitata un altro secco 5 braille a me che a me è piaciuto tantissimo è una special edition di braille a me a braille a me bello 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 bravo e chi ti resta di qui ho visto che long in rolex però io mi accontento di questi qua e se ne paghi il doppio sia che furbo ma questo è bellissimo bello bello penso a te si piace però insomma è questo qua voglio chiudere il video con vorrei comprarmi dato che siamo a natale un bello orologio confia su una cifra di intorno ai 6 700 euro massimo cosa mi consigli fammi sapere grazie auguri a te a tutti gli amici del canale auguri grazie buon natale buon natale anche a te ormai è estate buon natale te lo sarei già comprato cosa ti consiglio 6 700 euro mio consiglio ti sei comprato lo zuiosa al doppio del prezzo avrei speso 500 600 euro poi l'edizione brian may del secco 5 che costa di più non mi ricordo quanto costava ma costa molto di più di un secco 5 gmt con 380 euro lo porti a casa ah no il secco 5 normale con 200 anche 190 li porti a casa l'avrei pagato 3 400 100 se i soldi li spendi così in tutti i secco 5 tutti i citizen economici pagandoli molto di più poi dopo ti ritrovi ora vi faccio un regalo da 6 700 quando avresti potuto avere un budget da 1500 cioè senza quegli orologi lì no 1500 poi vabbè uno vuole fare il percorso se li vuole accaparrare 6 700 euro cosa ti consiglio fra un po' non ci prendi più niente con 6 700 euro un glissin combat sub con 550 euro ti pigli un diver 200 metri che è bello è fatto bene non ce l'hai nemmeno un orologio swiss made tra virgolette glissin non ce l'hai nemmeno ti ci starebbe anche bene se no un emilton usato forse qualcosa a poco più trovi anche nuovo scontato non saprei proprio cosa dirti con 5 600 euro anche anche un secco di fascia superiore ma non so se ci arrivi insomma arrangiati un po' perché poi alla fine se i soldi li spendi a pippo di cane no a membro di segugio come si suol dire non ti lamentare cioè paghi il doppio nemmeno fosse un rolex fuori listino no avessi un sito sensuiosa al doppio prossimo ciao davide sono alberto da torino alberto complimenti per il canale grazie sono qui per farti vedere la mia piccola collezione di orologi piccola facciamo in ordine cronologico il mio seiko prospex sumo in edizione limitata questo bello un bello orologio verde colore particolare che piace a me a me piace il verde il mio colore preferito l'ho preso perché mi piaceva è molto ingombrante è un 45 mm ma va bene così fa il suo bracciale è un po' scadente però mi piaceva molto il suo verde già da adesso non so se si riesce a vedere bene verde particolare verde e il fonte qua sulla ghiera è diverso rispetto ai soliti seiko sumo poi poi passiamo c'è anche l'apricasse secondo orologio questo è colpa tua oriente tristar quadrante blu a cui ho sostituito il suo bracciale originale non perché fosse brutto a vedersi ma perché proprio di scarsa qualità questo è un bello orologio però glielo ho messo uno altrettanto di scarsa qualità di amazon però a parer mio è più comodo però non ci sta benissimo niente colpa tua questo è bello bello orologino pagato 97 euro mi pare guarda lì leggibilissimo il tempo lo tiene come può anche la luminescenza va bene ottimo un regalo della mia ragazza questo seiko presage anche lui a cui ha cambiato il suo cinturino originale perché questo qua non mi piaceva questo marrone scuro col quadrante verde non mi faceva impazzire allora io ho messo questo qui verde su verde stesso verde lui corre un po' però lo tiene abbastanza bene il tempo a fondello a vista niente da dire un bel calibro cioè a vedersi poi è un seiko cosa vuoi dire anche il quadrante con questa finitura a raggera adesso non si vede un po' si vede in controluce comunque a raggi di sole del regalo elegante comodo molto contento molto contento poi questo quando l'ho visto me ne sono innamorato mio mido multifort tv big date ecco questo qua io all'inizio l'ho un po' denigrato l'ho un po' tenuto poco in considerazione me ne dispiace anche alla fine c'è il suo perché secondo me assomigliava troppo quando l'ho visto il nautilus poi in realtà con questa anche con questa forma di cassa così non è anche piuttosto particolare la grandata che poi all'inizio all'inizio hanno avuto i problemi della grandata lì le hanno tutti ritirati e le hanno tutti rimessi sul commercio modificato il calibro e ora funziona perfettamente cioè il vantaggio di avere un'assistenza come quella lì mido gruppo swatch è questa che succede qualcosa in un battibaleno battibaleno risolvono i problemi e torna tutto sul mercato come niente fosse successo capita con qualche altra casa un po' minore oh ma quanti te ne rimangono lì quadrante grigio lui è veramente un bellissimo orologio per i miei gusti cassa di forma il bracciale bellissimo comodissimo unica pecca anche lui ha il fandello a vista e vabbè dai ormai ce l'ha tutti sinceramente per un calibro così il fandello a vista me lo sarei risparmiato eh mo tutti intenditori riserva di carica di 80 ore 100 metri di impermeabilità buono eh cosa si può valere di più per quello che ho speso eh non lo so non si sa stupendo stupendo e poi il mio ultimo acquisto cos'è cos'è auto regalo per i miei 30 anni faccio vedere è arrivato da due settimane oppa la questo mega speedmaster moonwatch in edizione limitata per le olimpiadi di tokyo 2020 topolo quadrante grigio e lunetta sfere lunetta pulsanti in oro rosa e ghiera ghiera verde si perde un po' la rosa e lui è bello assai molto bello magari l'allegibilità è quella che però volevo stavo dicendo che con queste immagini così un po' bruciate un po' troppo chiare si perdono i contrasti eh non avevo nemmeno capito che è oro rosa cioè si fa fatica a vedere il contrasto sicuramente con una con delle immagini un pochino che gli rendono giustizia sarebbe stato meglio eh stupendo un orologio bellissimo unico peccato c'è ancora il calibro 1861 e vabbè non il non il 3861 coaxial come il moonwatch che hai tu però ha già il vetro zaffero e la cassetta è diversa rispetto agli altri Omega suoi coetanei perché ha la microregolazione vabbè e poi sul fondello ha questa incisione Tokyo 2020 simpatico dai mi piaceva oltre per l'accostamento di colori perché pur essendo un'edizione limitata non ha cose invadenti sul quadrante ma non non lo si distingue sembra un orologio prodotto normalmente grazie per lo spazio grazie a te un saluto e complimenti ancora per il canale un salutone un salutone che poi c'è anche la particolarità che Tokyo 2020 non l'hanno mai fatta perché l'hanno fatta nel 21 a causa della pandemia e dello stop a tutte le attività sportive quindi c'è anche un suo perché no fra 102 anni ricordare no questo qua è Tokyo 2020 ma nel 2020 non ci sono state le olimpiadi l'hanno fatta l'anno dopo ha ha capito così bello cioè mai spiazzato con questo ultimo pezzone qua veramente costoso e di pregio è anche particolare ricercato no ha fatto tutta una scaletta a salire poi quello lì boom bravo c'è anche degli ottimi gusti tutti un po' particolari diciamo no perché anche il mido lì big date non è che si vede tanto speedmaster scegliere quel modello lì ci vuole un po' di pelo sullo stomaco no uno che li colleziona magari c'è il moonwatch 2 3 4 5 poi si piglia quello lì uno che si deve prendere il primo si sceglie quello lì eh bravo particolare sei promosso dai prossimo video ciao Davide sono Giuseppe e ti mando questo video dalla provincia di Lecce volevo farti conoscere la mia collezione e partiamo subito dai quarsi un classico casio che tutti noi abbiamo il regalo della laurea un citizen radiocontrollato eco drive il sector dv5005 di papà che ho fatto restaurare che utilizzo spessissimo poi ci abbiamo un citizen eco drive in titanio crono che questo purtroppo lo utilizzo veramente poco non mi fa impazzire poi ci abbiamo un sector questo è il regalo invece della comunione o cresi ma non ricordo bene che comunque si è mantenuto benissimo nel tempo la particolarità è data dall'artimetro cioè dentro c'è un barometro che in base alla pressione atmosferica ci dice l'altezza alla quale ci troviamo e questo è possibile leggerla dal sotto quadrante ad ore 12 poi uno dei primi orologi che ho comprato una volta partita questa passione questo è a disdive automatico in h35 lo utilizzo per le scampagnate così come orologio da battaglia e poi abbiamo un citizen pro master eco drive 200 metri di profondità molto comodo al polso oppure avendo una cassa abbastanza massiccia da 44 mm l'unica cosa che ho fatto è stato cambiare il cinturino mettendone uno un pochino più snello è un tropic lo utilizzo abbastanza abbastanza spesso e niente va bene va benissimo come orologio poi passiamo ad un nemilton il frogman prima serie questo è degli inizi anni 2000 se non ricordo male l'orologio che mi ha regalato mio suocero è il suo orologio l'ho fatto revisionare calibro 2892 tiene benissimo il tempo si ricarica bene al polso al contrario di come dicono tutti purtroppo non lo riesco cioè come dicono tutti cosa chi dove quando perché semplicemente quando te senti questi discorsi che letta 2892 problemi di ricarica è perché i primi modelli proprio appena l'hanno uscito aveva dei problemi di ricarica con il rotore di ricarica automatica che poi sono stati sostituiti risolti con la versione 2 che è in commercio da sempre sul 2892 ci creano anche i calibri più cioè il corseale l'hanno creato sul 2892 il 2500 i calibri attuali di Longines hanno tutti base 2892 poi cosa c'è i moduli du bois de pra che sono cronografici li fanno su base 2892 sta cosa qua che senti dire dimenticatela perché è un una reminescenza dei primi problemi è come dire che ad esempio i Tudor quando appena sono usciti hanno avuto il problema col datario quelli GMT se non mi sbaglio con il datario che non scattava allora è come fra dieci anni vent'anni trent'anni dire no ma il calibro della Tudor c'è un problema sul datario ce l'ha avuto appena uscito perché è un calibro nuovo è ancora in rodaggio qualcosa da sistemare c'è sempre ci sarà nonostante tutte le prove che fare quindi questi discorsi qua lasciano il tempo che trova e non cercate di tramandarle perché non hanno senso pesco ad utilizzare giornalmente a causa della corona o meglio della protezione della corona che è veramente spessa veramente grossa che mi dà un enorme fastidio al dorso della mano e purtroppo lo devo utilizzare solo occasionalmente mi piace tanto come orologio ma a causa di questa sua caratteristica non lo posso utilizzare quanto vorrei poi passiamo ad uno degli ultimi acquisti è questo con oitra cristallo è un diver professionale 500 metri di profondità abbiamo la valvola dell'aereo ad ore 9 riserva di carica ad ore 6 piccoli secondi ad ore 9 potente il quadrante bellissimo dalla luce non ci si rende conto ma si passa da un blu scuro blu profondo ad ore 12 fino a un nero ad ore 6 e la particolarità di questo diver è data dalla ghiera che non è come quella di tutti gli altri o della maggior parte degli altri diver dove vengono riportati i minuti ma vengono riportati i metri come funziona questa ghiera tu devi posizionare prima di immergerti l'indicatore ad ore 12 in prossimità della sfera dei minuti dopodiché l'orologio ti indicherà il tempo massimo in cui è possibile stare immersi ad una data profondità è molto particolare sulla terraferma chiaramente è inutilizzabile poi passiamo allo spale 15-41 bellissimo orologio voglio tornare indietro un attimino perché non è che l'hai spiegato tanto bene a una data profondità cioè cosa significa il tempo massimo che si può stare a quella data profondità per evitare i tempi di decompressione per quello 500 metri di profondità anche questo ha una cassa molto più snella rispetto a quella dell'econoitra lo utilizzo tantissimo bellissima la sfera arancione dei minuti sellita sv200 però che non tiene benissimo il tempo mi guadagna 21-22 secondi al giorno e niente così lo farò regolare strano perché da quello che so usano anche delle versioni di sellita abbastanza pregiate qua succede ci sta non è la fine del mondo è 20 secondi il mio diver 65 dell'oriz ne fa 12 13 è già un pochino un po' troppo forse e ci sono tantini però ci si può convivere infatti lo usi tutti i giorni poi abbiamo un citizen pro master in titanio un classico movimento miota serie 8 questo invece stranamente tiene benissimo il tempo 2-3 secondi al giorno lo uso giornalmente è abbastanza leggero quindi è pure comodo da tenere al polso comodissima la corona ad ore 8 che non dà per niente fastidio poi abbiamo un longin idroconquest questo ho scelto la versione da 39 mm proprio per la corona ho preferito prendere un diametro più piccolo proprio per non avere il problema della corona sul dorso della mano anche questo precisissimo regolato veramente veramente bene poi passiamo ad uno dei miei orologi preferiti è il longin big eye comprato da circa un annetto cercavo un crono scusami un crono che fosse bello massiccio che avesse una cassa veramente particolare ed ecco che ho trovato il longin big eye mi piace tantissimo mi piace tantissimo anche il suo cinturino in pelle marrone e strautilizzato poi cercavo un orologio con un calibro di manifattura però senza svenarmi allora ero in giro mi trovavo a Terni guardo la vetrina di una gioielleria e trovo questo nomos il club campus 38 mm entro lo provo mi innamoro di questo orologio e lo la particolarità è data dal quadrante California quadrante color grigio chiaro le sfere invece sono completamente bianche abbastanza si legge bene visibile piccoli secondi ad ore 6 arancioni che lo rendono sportivo poi mi sono innamorato anche di questo Gran 6 movimento spring drive che cosa c'è da dire su questo Gran 6 è un orologio bellissimo finiture da top la classica satinatura zarazzo strausato come puoi vedere purtroppo ci stanno parecchi segni ma va bene va bene così tanto il mio orologio non lo cambierò mai e quindi lo utilizzo senza senza farmi grandi problemi un altro automatico è questo 6.5 lo utilizzo pochissimo poi ti faccio vedere degli altri orologini che ho comprato via via nel tempo Anthony marchi ormai sconosciuti poi abbiamo questo mondia la particolarità di questo mondia è un bumper watch cioè dentro c'è una massa oscillante che sbatta a sinistra a destra in dei martelletti che ricaricano l'orologio subito appena si scuote inizia inizia a camminare tiene benissimo il tempo lo indosso con piacere spesso poi abbiamo un Paul Geraint anche questo marchio sconosciuto ormai ed infine un Victor cercavo poi un Sector che era l'orologio di papà degli anni degli anni 90 con un 77,50 ed eccomi che ho trovato proprio questo orologio quello che cercavo in titanio 40 mm di diametro orologio molto molto carino bellissimo il bracciale molto comodo tenuto anche abbastanza abbastanza bene revisionato tiene benissimo il tempo e quindi lo utilizzo anche questo quasi giornalmente infine abbiamo quest'altro crono un russo 31,33 revisionato la classica cassa cromata la marca è seconda seconda era un importatore di orologi russi in Europa e niente anche questo revisionato tiene bene il tempo un orologio robusto ho fatto lucidare leggermente il il plexi lo utilizzo lo utilizzo spessissimo insomma quasi tutto bravo a posto Davide questa è tutta la mia collezione non ti faccio vedere questo orologio qua in questo computerino qua e ti ringrazio grazie a te un abbraccio è finito il video beh mamma mia è un'esposizione di corsa proprio tanti orologi quindi è andato di corsissima magari era meglio parlare un po' meno di alcuni e parlare un po' di più di altri comunque va bene così c'è quel gran seico lì che spicca su tutti pur essendo spring drive c'è un misto tra quarzo e meccanico gli va riconosciuto il valore è un gran bello orologio poi ci sono i due longin che quelli sono intramontabili ha il big eye che è proprio bello e l'idroconquest a 39 che te hai scelto a 39 perché io quando avevo avevo quello da 44 io da 44 millimetri la corona fatta così le spallette tipo clessidra alata qua mi facevano il callo sulla mano qua andavano a battere proprio da 39 sperando che ti dia meno fastidio spero anch'io ma non è tanto il diametro è proprio quando arriva lì che colpisce poi tra gli altri cosa è lo squale sicuramente lo squale è quello che mi garbicchia di più cos'è 15-21 a cassa quello lì mi piaceva abbastanza tanto anche l'econometra è simpatico con quella ghiera a numeri strani che poi si può utilizzare chi la utilizza la ghiera tanto qualsiasi tipo la fai con le scala di decompressione quello che vuoi te come hanno fatto certi quadranti mido sono pittoreschi a questo punto perché chi li utilizza noi li utilizziamo sappiamo che quelle scale servono per quella cosa lì siamo contenti poi l'orologio lo indossiamo un giorno poi ne prendiamo un altro poi ne prendiamo un altro però c'è siamo contenti per quello io direi che sei promosso anche con i vintagini lì simpatici i sector sono brutti sono brutti perché sono degli anni 90 però hanno il loro valore non possiamo dirigrarli così salviamo anche quei secoli la Disdive no la Disdive è proprio come marchio non mi piace non lo sopporto è uno di quei marchi che nascono con l'idea di copiare tutti gli altri non hanno mai un posto nel mio cuore mi dispiace mi sembra di aver detto tutto ragazzi io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua aver guardato il video con me spero vi siano piaciuti gli spaccati di società degli amici che ci hanno mandato i video e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile ma qui su YouTube Love Love